E' vero, la gente ha bisogno di essere dominata attualmente per una ragione evidentissima, perché la gente ha imparato soltanto a essere dominata da qualche decennio a questa parte, ha imparato a essere dominata e a dominare se stessa, così le hanno insegnato. Troppo poche persone hanno avuto il coraggio di segnalare questo, e di mettere in guardia dalle conseguenze che potevano derivare dall'eccessivo conformismo, dall'eccessivo servilismo delle persone. Le conseguenze sono che adesso siamo in un periodo eccezionale nella storia dell'Occidente, in cui gruppi sempre più limitati di persone diventano capaci, acquistano il potere, di produrre dei danni immensi a nazioni, all'intero pianeta, proprio perché la gente non si accorge del fatto che può anche non essere dominata e non dominarsi. Non si accorge del fatto che può anche cominciare a pensare, a chiedere perché, che è a prendere sul serio i propri pensieri e le proprie richieste.